ciao a tutti ragazzi bentornati e bentornati qui su due pazzi per il lego un saluto da roberto e da jody oggi iniziamo una serie di video che ci avete richiesto in tanti arrivano un sacco di segnalazioni un sacco di richieste una delle richieste più frequenti e ricorrenti è proprio quella che andiamo ad esaudire oggi da qui in avanti speriamo che vi piaccia prima però di andare a vedere di cosa si tratta lo sapete già avete letto il titolo io come sempre vi ricordo di iscrivervi a tutti i nostri canali social che compaiono come sempre qua e di andare a fare un giro dal signor big manu perché perché mi ha detto il signor jody padulano che a sto giro questa settimana propone sul bancone del negozio i babà i babà quindi oltre al codice sconto che trovate in descrizione riservato a noi di 2 ppl e che potete usufruire ci saranno anche i babà mi raccomando se andate in negozio a torino richiedeteli vediamo che faccia fa il signor big manu bello sto giochino dei dolci mi piace bravo jody che l'hai fatto partire signori di cosa parliamo oggi da qui all'eternità di una roba forse un po di nicchia forse per chi vuole costruire quindi conoscere sapere però secondo me è molto curioso un po per tutti anche chi si approccia per le prime volte al mondo delle costruzioni delle moche delle dei progetti personali ma anche a chi vuole farsi un po di cultura generale bando alle ciance roberto di che cacchio si parla si parla dei pezzi nuovi sì perché piccola parentesi voi dovete sapere che l'ego non dico a tutti i set che fa uscire perché non è vero ma a molti set nuovi viene associato uno barra due pezzi nuovi due stampi nuovi ci sono poi dei recolor che vuol dire prendere un pezzo che esiste già e farlo in un colore nuovo mai mai fatto li vedremo anche quelli quando secondo noi avranno una certa importanza però principalmente vediamo proprio i pezzi nuovi perché cultura ma soprattutto per chi costruisce come noi cavolo possibilità nuove di creare robe nuove e quindi si parte dai pezzi di questo mese giugno 2003 fateci sapere nei commenti se vi piace questa rubrica rubrica questo tipo di video fateci sapere se volete cose un po diverse se volete sapere robe su questi pezzi che ne so magari da che set provengono cioè nel senso esce un set nuovo con quel pezzo lì sì ma quale che mi interessa poi va bene signori non ha senso molto andare a comprare un set per avere dentro due pezzettini lì si recupera in altro modo però sono tutte curiosità che se vi interessano noi siamo ben contenti di andare ad esaudire e raccontarvi quindi si passa direttamente qua rimpiccioliamo il signor roberto cerute e andiamo a vedere iniziamo primo pezzo la tartarughina abbiamo già anticipato qualcosa nei video delle novità chi ci segue lo sa ho fatto anche la rima o tra la la pezzi nuovi perché non avevamo mai avuto una tartarughina e soprattutto una tartaruga mamma così grande queste sono proprio le tartarughe marine quelle belle grosse ok non quelle piccoline france proprio belle grosse uno stampo nuovo li trovate nei set della city ripeto se volete vedere anche sapere il codice vedere la scatola che ce lo dite e lo metteremo nei prossimi video e niente quindi primo pezzo di questi dieci pezzi che andiamo dieci anche un po di più ma ma lo vedrete primo pezzo eccolo qua tartaruga marina mamma e figlia perché dico più di dieci pezzi perché ogni tanto li raggruppiamo quindi nel primo pezzo in generale mettiamo gli animaletti che riteniamo più importanti nuovi foca foca signori mamma e cucciolo anche questi li trovate nei set city nuovi in uscita usciti a giugno quindi animali nuovi jody è felicissimo bene e finiamo in bellezza con l'orca orca paletta questa tanta roba signori questi questo verrà veramente a costare un occhio della testa secondo me quindi se lo volete comprate il set a sto giro orca bella bellissima mi piace monostampo va bene ma ci sta in realtà dopo l'orca c'è anche l'orsacchiotto polare e quindi io direi che abbiamo concluso anche lui ovviamente nei set city nuovi abbiamo concluso quelli che sono gli animali nuovi quindi diciamo nella posizione nello slot 1 di questa top 10 troviamo gli animali nuovi secondo pezzo molto molto figo pazzesco io la ragiono già da moccatore da costruttore da da possibilità veramente di soluzioni nuove pezzo fantastico signori questo lo trovate all'interno di del downtown city se non sbaglio il set nuovo e quante possibilità mi vengono già in mente con questi clip queste queste ci si chiamano clip nel gergo diciamo dei pezzi lego so che siete tutti appassionati e sto dicendo robe base però è anche giusto andare a dare informazioni per chi si approccia diciamo da poco appena arrivato nel mondo lego queste clip anche perché poi quando andate a parlare con la gente agli eventi vi parlano così quindi è meglio che due informazioni ve le diamo e bellissimo queste clip a specchio daranno un sacco di possibilità ma figata figata vi ho fatto vedere anche i tre colori con i quali sono usciti quindi rosso nero e lbg light bluish gray ok grigio chiaro questo grigio chiaro e bello bello mi piace molto mi piace molto altro pezzo fighissimo che mi piace un sacco questa finestra con la barra in a 45 gradi sicuramente io qui non ve lo do al 100% ma lego lavora così quindi sicuramente quella barra è delle dimensioni delle barre normali la 3l la 4l e tutte insomma quindi potreste andare a mettere tutti quegli elementi a clip che riuscite a incastrare ed anche qui capite che potete iniziare a fare delle cose nuove mai possibili prima molto bello anche questo nero reddish brown questo marrone chiaro e bianco dove li trovate li trovate nel ninjago city market escono con quel settino lì quindi recuperateli a parte non vi conviene andare a comprare nel ninjago city market per prendere questi pezzettini però molto molto belli molto interessanti a proposito di molto interessanti non l'ho detto prima ve lo dico adesso non è che sono usciti dieci pezzi ogni mese escono dieci pezzi io e jody andremo a scegliere quelli che secondo noi sono i pezzi un po più che ci piacciono di più che possono essere utilizzati avere più utilizzi insomma quelli che secondo noi possono rientrare in questa presentazione di dieci pezzi va bene quindi ne scegliamo dieci ce ne sono altri però vi presentiamo questi allora altro pezzo fantasmagorico questo per dirla in breve sono diciamo i cingoli che trovate va bene nelle parte tecnica gli hanno messo questa barra laterale io mi immagino già tutti i nuovi diorami le nuove moche nelle esposizioni con attaccato su questa barra un qualcosa per farlo muovere perché ne so per spostare un animale per spostare dei personaggi delle delle ambie mamma mia mamma mia signori e signori ho già in mente delle cose quindi bene anche perché ovviamente vanno ad incastrarsi su quelli già esistenti quindi ve ne basta giusto 1 2 5 quello che vi serve all'interno del vostro circuito di cingoli già per appunto far muovere qualcuno qualcosa bello pezzo secondo me molto molto importante poi andiamo avanti qui andiamo su pezzi minifig ogni mese ne usciranno una caterba veramente tantissimi anche questo mese ne sono usciti tra copricapi capigliature nuove elmi accessori da torso un'infinità di pezzi nuovi scegliamo i due o tre che ci sono piaciuti di più questo mostriciattolo quest'altro mostriciattolo che trovate nel set di monkey kid ok quello nuovo e poi una capigliatura che a me piace molto bellissima stupenda è tipo un po secondo me tipo rasta quei cappelloni tutti fatti stile bobo marley ok tra l'altro lo fanno con lo zucchero acqua e zucchero no sto dicendo una castroneria non mi ricordo vabbè comunque capigliatura nuova mi piace molto ho scelto personalmente l'ho voluta come rappresentazione dei pezzi nuovi minifig bello bello nuovi accessori per nuove personalizzazioni su minifig passiamo agli ultimi pezzi qui si va su un recolor come vi dicevo prima io e jody abbiamo scelto di inserire anche dei recolor cioè dei pezzi già esistenti ma che prendono delle colorazioni nuove che lego non aveva ancora fatto con quel pezzo lì quando riteniamo che un recolor sia importante cioè importante quando secondo noi quel recolor può essere importante per voi può avere un valore questa è una ringhiera ok in tan quindi questo colore sabbia secondo me è molto molto degno di nota quindi d'ora in poi da giugno avremo anche questa ringhiera color tan ultimo ma non per importanza un pezzo che conoscete molto bene il lamp il palo del lampioncino classico che trovate nei modulari piuttosto che in altri set city piuttosto che questo lo trovate nella nuova stazione di harry potter che è uscita proprio questo mese e rossa rossa fino adesso avevamo bianca nera verde scuro quindi un dark green non mi ricordo altri colori comunque rosso nuovo colore secondo me bello 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 potremo finalmente colorare un po di più le nostre ambientazioni cittadine e con questo lampioncino direi che abbiamo finito signori questo è un nuovo video un nuovo tipo una nuova tipologia di video come vi ho detto prima io jody gradiremmo un vostro risconto qua riscontro qua nei commenti fateci sapere se una cosa del genere vi può interessare una volta al mese per trovare tutti i pezzi nuovi che ci sono i 10 pezzi che secondo noi meritano di essere presentati fateci sapere se volete delle modifiche e come sempre fateci avere le vostre richieste noi siamo qua per accontentarvi come sempre io vi ringrazio di essere stati qui in nostra compagnia e signori ci vediamo al prossimo video ciao ciao